Musica Musica Dopo che ho vinto il bronzo mi hanno fatto una piccola parada qui. Non mi è piaciuto. Non sono il tipo da festeggiamenti. Musica Sta ferma. Devo scrivere ira, non farmi sbagliare. Musica Il peccato lo devi esporre perché possa essere assolto. Se nascondiamo il peccato, nascondiamo noi stessi. Tu non ti nasconderai più. Musica Al contrario verserai il tuo spirito su questo pavimento perché tutti lo vedano. Musica Perfetto Musica 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 Nick? Sì. Sarò redento. Questo è il potere del sì. Il potere di eliminare il peccato. Il potere di essere liberi. Vuoi tu, vice, mettere la tua mano sulla parola di Joseph? Vuoi tu, vice, mettere la tua mano sulla parola di Joseph? E rinunciare ai tuoi peccati ammettendoli? E rinunciare ai tuoi peccati ammettendoli? D... Dissi. Dissi. È solo una parola. Arma! Forza! Forza! Mortate John Arlash! Su! Oddio! Andiamo! Vieni! letto! S ce n'ho fatto, ci penso io. È forza, Messy! forza vice cosa cazzo stai aspettando john sta scappando sali a bordo cazzo a destra a a a Bersaglio acquisito, vado e un zito! Dietro di noi! Spara! Cerca di colpire le gomme! Occhio là sotto! Vedo il bersaglio! Mi arrivano altri! Non ci vogliono! Occhio! Aereo! Mi segno ad attaccarli sul fianco! Abbiamo gli geniti attaccati al culo! Dietro di noi! Bersaglio in vita! Avanti così, vince! Vado e un zito! Avanti quegli aerei! Ho il bersaglio a tiro! Avanti gli aerei, non siamo morti! A calura mitragliata! Mitragliata, i bianchi in arrivo! Ruffo il contatto! Non daremo così! Davanti a noi! Davanti! Merda! E' meglio di John! Se ne sta andando! Prendi uno dei loro aerei e seguilo! Non abbiamo alterativo! John è in volo! Trova un aereo in... Collega! Sono Leak! Non ho intenzione di fargliela passare liscia, quel pezzo di merda! Posso portarti con l'aereo se hai bisogno! Basta che tu lo dica! Sto arrivando, Sasha! Prendiamo questo figlio di puttana! Nick, Rai! Hai già dimenticato quello che ti ho detto? Vaffanculo! Sei soltanto un demone e ti rispediremo all'inferno! Hai capito? Sei un uomo morto! Accidenti! Com'è contagiosa, Lira! Dovrò uccidermi entrambi! Mi sono prendendo! Il padre ti ha offerto la salvezza! E tu l'hai gettata alle ortiche! Guarda cosa hai fatto! Guarda, Lira, che hai provocato! Come fai a non capire? Se uccidi me, uccidi loro! Guarda, Lira, che hai! Guarda, metallo! Guarda, Lira, che hai! Guarda, FPVotor tab pieroga! Guarda, Ära, catara! Guarda, la fazagna! Guarda, plaque subito! Guarda, so... Guarda! Guarda, va... Guarda, gu1copulist, Presidente... No! No! Perdo il controllo! Sto precipitando! L'aereo di Giole è precipitato! Padre, proteggilo! Fratelli, sorelle, non abbiate paura, ci siamo preparati a questo, il padre ci ha indicato la via, preparate il mio cancello, sto arrivando da voi, aspetteremo insieme il collasso. C'è qualcosa? E se Joseph avesse ragione, ti è mai venuto in mente che possa essere così? Tutti pensano che sia pazzo, ma non lo è. Guardati intorno, siamo sull'orlo del baratro, te lo senti, nelle ossa. Guarda i giornali, guarda che comando... Vuoi questa chiave? Perché pensi di salvare la gente, ma sono già al sicuro. Abbiamo un piano. Tu non capisci. Non ci credi? Non ti importa! Che Dio abbia piatà della tua anima. Vice, non so cosa dire. John Seed ha terrorizzato la valle di un sielo. Non pensavo che avrei mai visto la sua fine, ma non è ancora il momento di gioire. Bisogna salvare Hudson e gli altri prigionieri del bunker. Raduno tutti quelli che riesco e ti raggiungo lì, ma devi andare ora. Non sappiamo come si comporterà l'Eden's Gate dopo quello che è successo. Cambio posizione, da qui non posso fare niente. Affermativo! Affermativo! Guarda come ballano gli Edenici! Va bene! Blocco annullato! Blocco annullato! Combatteremo ira con l'amore del padre! Voi sono i vostri fratelli e le vostre sorelle. Batteremo... Precato! Affermativo! Bene! Vieni insieme! Marceremo... Occhio! Mentre questo capitolo si chiude, per voi se ne apre uno nuovo. Un'era di pace, armonia e amore. Imparerete ad accertarmi come vostro padre. Sentirete il calore della mia benevolenza. Sannere a tutti i altri ovatori. Anc inclusioni! Un'altra da cosa per permeti di segoco. Per un Un'altra da glitana. Stscettiamo! non potete fete o morte E' un po' di più! Oh Cristo, aiuto! Novellina, sei tu? Oddio, oddio, oddio. Non pensavo saresti tornata. Ha iniziato, ha iniziato a succedere qualcosa. Tutti, tutti i cazzo di Edeniti hanno iniziato a correre in giro. Hanno iniziato a chiudere le porte, a chiuderci dentro e... Pensavo che sarei rimasta qui per sempre. Tutta, tutta colpa sua. Lui, quel... Maledetto, maledetto pezzo di merda! Lui veniva qua giù, solamente per fermarsi a guardare. Noi imploravamo, pietà, e lui restava a guardare, cazzo! Gli altri, ok? C'è altra gente bloccata qua giù con me. Dobbiamo tirare fuori tutti e poi daremo fuoco a questo posto di merda. decidi tu se darmi una mano a levarti di turno. Avanti, dobbiamo raggiungere la sala di controllo. È l'unico modo per aprire le stanze e liberare gli altri. Le armi complicano sempre tutto. Suppongo che tu abbia depennato salvare una città dalla tua lista. Porte d'emergenza aperte. Mi prendo un pacchino e me lo faccio a posto. Dobbiamo tirarli tutti fuori da lì. Stiamo scherzando? Merda! Una delle sezioni è legata ad un'altra sala di controllo. Non posso fare niente da qui. Devi trovare l'altra sala di controllo. Aspetta, aspetta, aspetta! La sala di controllo è chiusa! Missile trovato. Sequenza di lancio inter... Ok, tieni gli occhi aperti. Ho fatto scendere una piattaforma dal stile di lancio del missile. Dovrebbe portarti alla sala di controllo. Troverai una serie di pannelli. Distruggili. Merda, i deniti! Stacce! Dio, è fuori! Distruggi i pannelli! È l'unico modo per liberare tutti i brigogneri rimasti. Distruggi tutti! Trasbrigati! Trasbrigati! Si resta poco tempo! Ha funzionato! Le stanze sono aperte. Ora torna al silo! Credo di aver capito una cosa. Interagio di emergenza attivo. Bene, inizia a salire. Questi affari sono in disuso da anni, quindi se qualcosa si blocca, spara ai casini. Attenzione. Atverta. C'è una protezione contro lo sblocco globale. Dovrò fare una sezione per posto. Evacuazione. Non è una cattiva idea. Continua a salire. Quando arrivi in cima, troverai una stanza dove tengono le scorte di carburante di Gaudio. Evacuazione. Modo ordinato. Siamo venendo a prenderci! Senza paura! Ecco, spara alle tanniche. Pericolo. Avanti così! Vado a salvare il nostro fratello! Vado a salvare il nostrorelsente. Oh no! Oh no! Ahh, 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 ahh! 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 Ahhhh… Uh! Essenza. Ah Bisonieri e vado! Buona fortuna! Ci vediamo fuori! Vice, rinforzi in arrivo! Vice, rinforzi in arrivo! Vice, rinforzi in arrivo! Vice, rinforzi in arrivo! Elicottero in arrivo! Ci vediamo in cima, vice! Apri la botola! I comandi dovrebbero essere vicino a dove ti trovi! Offline! Incendio nella sezione C! Ok! L'elicottero è proprio sopra di te! Forza, vice! Aggrappati ai carrelli! Come hai foto? Usa il tuo rampino! No! No! Frippa! Ehi, accidenti, non avevo mai visto niente di simile. Abbiamo fatto bene a salvarti. Ehi. Finalmente tu ci hai restituito la speranza. Grazie. Qualunque cosa succeda, siamo con te. Ehi. Hai fatto un gran lavoro, Novellino. Per come la vedo io, da oggi sei tu che comandi. E se avessi bisogno di qualcosa, devi solo fare un fisco. A volte è meglio non svegliare l'Ikan che dorme. Un sigillo è stato aperto. Mio fratello John era amato da pochi. E' temuto da molti. Non c'era nessuno che lo capisse. Ad eccezione di me. Credetemi, John non era un mostro. Era solo un bambino quando la nostra famiglia è crollata. Lui era affettuoso, generoso, pieno di gioia. Questo faceva di lui una preda. John non era perfetto. A volte non era nemmeno buono. Ma era mio fratello. E i responsabili della sua morte verranno puniti. Questa è una promessa. Sono felice che il barroco Geron, Mary May e Casey stiano bene. Quelli erano gli ultimi. Ottimo lavoro, Vice. Gli abbiamo fatto un bel danno. Irreversibile, direi. La setta sarà molto più prudente ora che l'abbiamo azzoppata. Ottimo per la resistenza. Così imparano. Vedere la gente che torna a Fall's End non sarà granché ma è casa, è vicino. Non sarà granché ma è stata 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 granché